Fiore come me, dieci vite di nonna spezzate da chi diceva di amarle. L'iniziativa è stata presentata all'Istituto Manzoni di Caserta. Il femminicidio è un fenomeno che coinvolge tutti. Ogni giorno muore una donna in ogni città d'Italia. Dagli anni 80 fino ad oggi sono 60 le donne uccise per mano di compagni, fidanzati o mariti. Solo nel 2013 in Italia sarebbero 124, stando agli ultimi dati, le vittime di violenza di genere. Un elenco che purtroppo si sta allungando di giorno in giorno. Fiore come me è un volume che raccoglie dieci storie di donne uccise da uomini. Il femminicidio è una parola brutta che viene utilizzata per etichettare il fenomeno. Ma il femminicidio, se vogliamo, è l'omicidio di qualsiasi donna che sia stata uccisa da un fidanzato, un compagno, che sia stata uccisa da innocente, dalla camorra oppure dalla criminalità comune? Noi della Fondazione Polis, che come nostra missione abbiamo il ruolo di sostenere le vittime innocenti della criminalità, abbiamo voluto valorizzare questo libro, farlo nostro, proprio per dare voce a tante donne che purtroppo nella nostra regione sono colpite da questa idea dell'uomo che ha di supremazia sulla donna. Sono dieci storie, tre storie di vittime di camorra, cinque storie di donne uccise dagli uomini, dai compagni, dai mariti gelosi, e due storie di madri che sono state definite coraggio, ma che in realtà sono state semplicemente madri perché Teresa Bonocore e Matilde Sorrentino sono state solo madri che hanno avuto la forza, che avrebbe avuto qualsiasi madre di denunciare che aveva abusato dei propri figli. Ecco, noi della Fondazione Polis vogliamo dare voce a tutte queste storie, come facciamo con tutte le storie delle vittime innocenti della criminalità, perché vogliamo che questa guerra che si sta combattendo, si continua a combattere per le strade della nostra regione, venga conosciuta anche dal punto di vista delle vittime, non solo dal punto di vista dei carnefici.